Una buona giornata, ben svegliati, ben trovati con Mattino 6, la rassegna stampa della nostra redazione. Andremo come di consueto, come ogni giorno, a sfogliare i quotidiani di casa nostra e non solo, partendo ovviamente dalle prime pagine di questo giovedì 1 febbraio e iniziando dalle quattro edizioni del quotidiano Il Centro, partendo con l'edizione di Pescara. Il titolo principale è pista ciclabile, avanti tra le proteste, Via Lemuzzi, la manifestazione non blocca i lavori, Darelli, bici solamente sui marciapiedi, ma l'Abruzzo si proietta verso il voto del 4 marzo, dunque manca poco più di un mese, alla consultazione elettorale, ammesse 16 liste tra Camera e Senato con 250 candidati. Questi sono i numeri proprio della nostra regione. La presentazione DEM, il Partito Democratico attacca Movimento 5 Stelle e Forzisti e scoppia il caso Castricone. Eventi 2018 in Abruzzo, un anno di grande tennis, sci e ciclismo. Ovviamente ci prepariamo anche ad un grande annata all'insegna dello sport. La foto, notizia, i ragazzi dell'alberghiero, futuri chef del cibo biologico, la nuova tendenza a Pescara. Gli studenti dell'istituto alberghiero Ipsar De Cecco prenderanno parte al progetto Bioalimentiamo. Il futuro nelle cronache Pescara al Bar Excelsior, ride vandalico davanti alla gente. Ancora cronaca, a Montesilvano, Blitz dei Nass, chiusa una casa famiglia. Francavilla, i vigili urbani scoprono 450 auto, pensate, senza assicurazione. Ancora cronaca, purtroppo, si schianta mentre scia e muore. Esce dalla pista e finisce contro un albero, un 58enne perde la vita a Campo Felice mentre stava sciando. Questa è la prima pagina dell'edizione pescarese del centro. Ci spostiamo sull'edizione Teramana. Ovviamente molto rimane simile, ma cambia ovviamente il titolo principale. In tasca i soldi delle visure, condannato tre anni perpeculato a un impiegato della Camera di Commercio di Teramo. Questa è l'apertura del centro, appunto, edizione Teramana. Ci spostiamo alla fotonotizia con i rifiuti ammassati nel Cirsu che vanno a fuoco da soli. Grasciano scatta un'altra inchiesta. C'è la fermentazione che produce il biogas alla base dell'incendio scoppiato ieri nei capannoni dell'impianto Cirsu di Grasciano. Nelle cronache, polemica elettorale, brucchi al veleno. L'ex sindaco di Teramo, Chiodi, dice, ha fatto una figuraccia a Colonnella. Dunque ci spostiamo in vibrata, minaccia la ex, il giudice. Deve starle lontano. Aree bianche a Roseto, il comune rischia di pagare milioni per i risarcimenti. Ovviamente anche qui c'è la notizia che riguarda purtroppo il 58enne che ha perso la vita a Campo Felice mentre sciava. Ci spostiamo sull'edizione di Chieti Lanciano Vasto. L'apertura è di cronaca, muore a 28 anni sotto al trattore. È successo a Villa Magna, un giovane di Ari vola nella scarpata e finisce schiacciato dal mezzo agricolo. La fotonotizia è dedicata purtroppo alla Trignina, la provinciale Trignina. cadono calcinacci dai viadotti senza manutenzione. Resta difficile la situazione di dissesto in cui si trova la strada provinciale Trignina nel tratto che collega il casello dell'A14 al centro abitato di San Salvo. E possiamo vedere meglio nella foto, insomma, la parte superiore di questo cavalcavia non è proprio il massimo. Nelle cronache ci spostiamo a Lanciano. Auto la investe sulle strisce, grave una 56enne con la conducente della macchina che dice ero abbagliata dal sole. Non l'ho vista. A Chieti cambio all'Ater, arriva l'ex segretario del PD. Sempre a Chieti, Nassi in ospedale, ma in corridoio restano 13 letti. L'edizione aquilana che ovviamente dà maggiore risalto, almeno graficamente, proprio alla tragedia di Campo Felice. Si schianta mentre scia e muore. L'Aquila perde la vita a Campo Felice, rivisondoli grave un altro sciatore. Purtroppo non sono una novità gli incidenti, proprio nel, durante, magari mentre si sta sciando, nelle gite in altura e quant'altro. La fotonotizia sugli scavi dell'antica porta a barete, nessuna decisione. Le associazioni chiedono al comune di pronunciarsi. Nelle cronache all'Aquila, restituzione tasse. Il decreto slitta al 4 aprile. A Celano, madre violenta, picchia l'amica della figlia. E poi a Sulmona, tribunale da salvare. Ecco la proposta, evidentemente, per farlo. Cambiamo quotidiano. Andiamo sulle colonne del messaggero Abruzzo. L'apertura è dedicata a Campo Felice. Sciatore muore contro un albero. L'uomo ha perso la vita, ha perso uno sci lungo la nera di Campo Felice. Ed è finito nella Boscaglia. Lutto all'università dove lavorava. Altro incidente in pista a Rivisondoli. Grave un disabile. In alto, questioni che riguardano lo sport. Serie D, novità da Vezzano. D'Alessandro entra in società con Gianni Paris. Basket, serie A2. La torre nel mirino di Roseto per la salvezza. Serie B, Pescara. La riduzione della rosa, secondo le richieste di Zeeman. Nella foto vedete Frank Canutè, che è uno di quelli che è andato via da Pescara e si è casato. Sempre in serie B, all'Ascoli. Ancora scendiamo in pagina per vedere. Ancora cronaca. Trattore si rovescia su strada. Vittima un giovane di 28 anni. Chieti, Massimo Di Prizzi, ucciso da un sinistro ritenuto anomalo. Ancora cronaca, falciata sulle strisce. Una donna è gravissima. Ma per quanto riguarda le elezioni al voto, ancora possibili ricorsi. Escluse sette liste dalla consultazione elettorale. In basso, con Uto Ugi, siamo a Chieti. Il teatro è sold out. Andiamo in provincia di Teramo con la prima pagina del quotidiano. La città, anche qui l'apertura è dedicata alla cronaca. Denunciati due infermieri abusivi, prelievi del sangue e prestazioni socio-sanitarie a domicilio. Senza le autorizzazioni. E ovviamente interviene il NAS. In alto, candidatura sfumata. Teramo 2020, un progetto da cui ripartire. Ma a centro pagina la fotonotizia riguarda la bomba ecologica. I rifiuti del CIRSU sono di nuovo in fiamme. Dunque c'è anche un allarme ambientale. Scendiamo in basso. Sisma, lavori bloccati alle elementari, Atri, impresa in rotta col comune, smantella il cantiere. Poi tanti box che ci danno ulteriori spunti. Per esempio, Teramo al voto per la politica. Giulio Sottanelli sfida ad Alfonso e Cocco Lagatti l'intervista proprio a Giulio Sottanelli. Sempre per la politica, Giulia Nova e countdown per la caduta di Mastromauro, il primo cittadino giuliese. Altre notizie che vediamo, partendo da sinistra, Consiglio di Stato, bocciatura per il ricorso contro la Team. In basso, la donazione dal Texas, arriva una donazione per l'Istituto Braga di Teramo. Di sesto, dalla regione in arrivo 300 mila euro per sistemare la maxifrana di Canzano. Incidenti stradali 2016, 21 morti e 1176 feriti. Teramo e la costa, i territori più pericolosi. Abbiamo visto le prime pagine regionali. Vediamo adesso qualche notizia nazionale. Partendo dal Corriere della Sera, che apre con il caso dei candidati esclusi, i giudici via 17 del centrodestra. Alleanze, le parole di Di Maio fanno discutere. Polemiche sulla decisione a Milano. Berlusconi non va da Vespa, ma rassicura. Il nonno sta benissimo. In alto, una notizia luttuosa. Di ieri il calcio piange a Zeglio Vicini. Il CT, ricorderete, delle notti magiche di Italia 90. Anche se poi non arrivò, purtroppo, la vittoria della Coppa del Mondo. La fotonotizia, il discorso al paese. Melania sceglie il bianco. Trump bipartisan. Futuro ottimismo e il sogno americano. Per la cronaca, una notizia davvero brutta. Il mistero della ragazza fatta a pezzi in due valigie. Aveva 18 anni, era fuggita da una comunità. Ed è stata fermata un uomo. Cambiamo quotidiano. Andiamo sulla Repubblica, che si fa un'analisi di quello che potrebbero essere gli scenari post-voto. Perché nei collegi vola il centrodestra. Forza Italia e il CSM indaga sul giudice. Berlusconi stanco, stop alla campagna di Maio a Londra. Sì alle larghe intese, ma poi però smentisce la fotonotizia riguarda Joe Kennedy. Terzo che risponde a Trump parlando in Massachusetts. Vediamo in basso, sorpresa Trump, stavolta piace all'America. E poi l'eterna sfida nel destino proprio dei Kennedy e Joe Kennedy terzo. È quello che vediamo appunto nella foto. Altra notizia, il biotestamento ad ostacoli. Un'odissea a Roma e Bari promosse Torino e Bologna. è il primo giorno di applicazione proprio della legge. La stampa, l'apertura, la crisi ha lasciato oltre 3 milioni di lavoratori in meno. In tre anni 200 mila in più sono senza contratto. Si allarga il ricorso al sommerso. E nel mirino c'è proprio l'abolizione dei voucher, che è stato un cavallo di battaglia, l'abolizione da parte dei sindacati. Altra notizia, la fotonotizia un po' curiosa, un po' particolare, perché la Formula 1 rinuncia alle ombrelline. L'effetto Weinstein sui circuiti dopo 50 anni, addio alle pin-up in pista. Insomma, è una decisione quanto mai particolare. Non sappiamo se è destinato a far discutere. Però è certamente una novità nel mondo dei motori. Malore di Berlusconi, in basso, giallo nel centro-destra, sospese le interviste. Forza Italia inquieta, Di Maio, se non vince nessuno, nostro esecutivo con chi ci sta. I sondaggi comparati però dicono che alla Camera la maggioranza è un repus. Al Senato le larghe intese potrebbero riuscire a governare il Paese. Cambiamo, andiamo sul messaggero, ma edizione nazionale. Perché il voto è appeso a 8 milioni di indecisi. Alle urne meno della metà dei 18 milioni di incerti. La scelta finale varrà il 2%. A Forza Italia e PD l'1% al Movimento 5 Stelle. Centrodestra, Caso Lombardia, 17 candidati a rischio. Berlusconi annulla gli impegni TV. Troppo stress. E poi la notizia che vi abbiamo letto della romana 18enne, fatta a pezzi e chiuse in valigia. Pamela Mastropietro, 18enne, ammacerata, è successo. Era fuggita da un centro di recupero, fermati alcuni nigeriani. In alto, dalle spie alle cavi e la guerra tra Angela Merkel e Donald Trump. La sfida commerciale, lo strapotere dei colossi web al Dieselgate. Cosa c'è dietro il caso? Dei test umani. In alto per lo sport. Effetto molesti e Formula 1 basta con le ombrelline. Oggi non sono più appropriate. Coppa Italia, Lazio passo verso la finale. 0-0 nell'andata con il Milan. Addio a Zegliovicini, CT della Nazionale. Nelle notti magiche di Italia 90. Il tempo, ecco le relazioni patacche della Commissione Banche, le carte della vergogna, omissioni, favori, sbianchettamenti, tutti gli interessi dei partiti e nessuno cita i 100 debitori di Monte dei Paschi di Siena. Siena e poi la, ancora cronaca, fatta a pezzi e la romana Pamela Mastropietro, il resto dei corpi trovati in due valigie a macerata. La rabbia della madre è il tempo perché nessuno mi ha avvertito, queste le parole ovviamente della mamma. Libero, non c'è più scampo, Prodi torna in campo, il vecchio che avanza, il signor Mortadella non si rassegna la pensione e si schierà al fianco di Renzi. L'uomo intelligente per arginare e per arginare Forza Italia tenta una riedizione dell'ulivo. La fotonotizia è il riposo del guerriero Berlusconi, Silvio non va da Vespa, la rissa sulle liste lo ha sfinito e si prepara alla volata. Finale, in basso, accolti anche 50 terroristi dell'Isis, siamo così buoni che ospitiamo chi uccide. Allarme dell'Interpol sono arrivati sui barconi tra i profughi. Cambiamo quotidiano, rimaniamo su quotidiani di matrice di centrodestra, andiamo sul secolo d'Italia. Appello a tutti gli ex AN, evidentemente, per andare al voto. In primo piano, volano gli stracci rosa in Forza Italia, Lite, Carfagna, De Girolamo. E poi, sempre in primo piano, Italia discrimina il velo, i musulmani all'attacco. Addio ad Azzeglio Vicini, Fucitti della Nazionale del 1990. Il manifesto, cambiamo ovviamente estrazione politica del quotidiano, lo stallo dell'Unione, è la fotonotizia del manifesto nel discorso al Congresso sullo Stato dell'Unione. Trump recita da Presidente, tende la mano ai democratici. In realtà sono stati 80 minuti di propaganda, ha rivendicato la cancellazione dell'Obamacare, il taglio delle tasse ai ricchi e il muro anti-migranti con il Messico. E poi c'è proprio il primo discorso di Donald Trump nell'analisi di Guido Moltedo, ma ancora uno spot in alto, Istat e questioni del lavoro sempre precari nell'Italia stagnante. I dati Istat, leggiamo, confermano il record dei contratti a termine e una stagnazione generalizzata. Calano ancora i tempi indeterminati. In basso vediamo questioni che riguardano la politica, ad esempio, stress list e pausa forzata per Berlusconi. E poi l'intervista a Fratoianni, Leo non tradirà il voto degli elettori. Cambiamo ancora il fatto quotidiano. Caso Renzi, CDB, Perugia indaga sull'inchiesta, l'insider trading impunito. Questa è l'apertura del fatto quotidiano. L'annutti del Movimento 5 Stelle sentito come teste sulla denuncia per il presunto insabbiamento a Roma della soffiata sul decreto banche popolari. L'avvenire, questioni del lavoro che abbiamo già visto. Meno lavoro, più nero. Lieve calo di occupati e disoccupati a dicembre. Censis e Coop crescono a 3,3 milioni gli irregolari. A fine 2017 aumentati gli inattivi. Mentre una ricerca alza il velo su operai, camerieri e soprattutto colf che sono senza contratto. Il dibattito, studio o lavoro, sbagliata l'alternativa. E poi a centropagina vediamo il discorso sullo Stato dell'Unione di Trump. Trump cerca l'unità ma insiste sul muro. E poi Erdogan respinge i profughi riportati in Siria. Nel naufragio di sabato scorso si ipotizzano 70 morti. Erdogan, il leader turco. E chiudiamo con il sole 24 ore prima di passare ai quotidiani sportivi. Sanità, imprese pronte al nuovo modello USA, boccia la società invecchia a trasformare i costi in opportunità. L'accordo tra Amazon, JP Morgan e Buffett suscita interesse anche in Italia. Per quanto riguarda questioni di strettissima attualità, Paduan lancia l'allarme, bolla. Le criptovalute possono far male. La blockchain è una tecnologia, il problema è l'uso che se ne fa. La speculazione legata alle criptovalute crea le bolle. Quando queste esplodono possono far male. Lo ha detto il ministro dell'economia, Piercarlo Padoan, del Fante, di Poste. Avviate iniziative su blockchain per sviluppare i pagamenti digitali. Per la formazione andiamo al via 15 lauree orientate verso i nuovi lavori di Industria 4.0. Cassazione farmaceutica a sentenza prima class action per un vaccino. Chiudiamo le prime pagine nazionali per andare sulle prime pagine dello sport. Perché ieri si è chiuso, ieri sera alle 23, si è chiuso il calcio mercato. Gazzetta dello sport che apre con un interrogativo che riguarda l'Inter. Inter è adesso, il mercato chiude senza botti. Anche il Napoli resta fermo al palo, nemmeno Pastore per l'Inter. Furia dei tifosi contro Suning e Cardi va a K.O. Champions adesso è dura. Giornata nera per i nero-azzurri, colpi a vuoto. Il capitano rischia di saltare la partita col Crotone. Intanto alla Roma arriva il difensore argentino Silva. Babacar va al Sassuolo e Falcinelli alla Fiorentina. Ovviamente la fotonotizia grande e basta donne, solo motori. La Formula 1 cancella le ombrelline dai Gran Premi. Erano in contrasto con le norme della società moderna. La foto più piccola invece riguarda Azzeglio Vicini. A Dio Vicini il CT di un'Italia da notti magiche. In alto, ieri tra le altre cose, oltre al mercato, c'era la seconda semifinale di Coppa Italia. E non vince nessuno, né Milan, né Lazio. Zero gol nel vuoto di San Siro. Si deciderà tutto nella gara di ritorno all'Olimpico. Cutrone e Inzaghi fanno la pace dopo la rete di braccio. Gattuso dice eravamo stanchi. Inzaghi invece, afferma, serviva a segnare. Ma, nell'analisi di Alessandra Bocci, si legge, si vede l'impronta del ringhio. In basso altre notizie che riguardano sempre il mercato. Piatti vuoti. La Juve gode. Il pagellone dell'esperto di mercato di gazzetta, Carlo Laudisa. E poi, De Laurentiis al fotofinish. 28 milioni al Sassuolo. Ma Politano resta dov'è con Giaccherini, che invece si accasa al Chievo. Il Corriere dello Sport ovviamente dà ampio spazio all'affare sfumato del Napoli. Polità no. All'ultimo secondo sfuma il passaggio dell'attaccante al Napoli. Giuntoli aveva offerto 27 milioni più bonus. E il prestito di Unas, una maxi operazione che doveva andare in porto. Ma non ci sono stati i tempi tecnici per fare in modo che tutti i contratti fossero a posto. E quindi sfuma il passaggio di Matteo Politano. Peraltro lo ricorderete in Maglia Pescara. Proprio al Napoli. E dunque resta al Sassuolo. In alto Gigio Paratutto. Cialanogluspreca. Superdonnarumma. Il Milan soffre. Lazio l'attacco. Non basta immobile. Coppa Italia. Semifinale di andata tra Milano e Lazio. San Siro. Finisce 0-0. Altre notizie di mercato. Le mosse finali. In Roma è arrivato l'argentino Silva. E Moreno se ne va nella Liga. Inters. Vanito Pastore. Maresta Brozovic. Nagatomo va in Turchia al Galatasaray. La Fiorentina. Pioli cambia. L'attacco. Falcinelli è viola. Mentre Babacar va al Sassuolo. Juve. Eurostar invece. Non ha di questi problemi. La Juventus. Nove vittorie consecutive. In Europa solo il Bayern ha lo stesso passo. Altre notizie. Grazie a Zeglio per le notti magiche. Morto Vicini. Gentiluomo azzurro. Il calcio in crisi. Commissario Figgici. Oggi Malagò nomina Fabricini. Con un punto di domanda. E vedremo se sarà così. Premier in campo. Tracollo Chelsea. Adesso Conte è davvero a rischio. Il Bournemouth di Laga 0-3. Cade anche lo United di Mourinho. Col Tottenham e il City. Allora se ne va. Parla domenicali. La Formula 1 non è da Lamborghini. L'ex capo Ferrari dice. Pensiamo a Le Mans e ai SUV. Chiudiamo le prime pagine con Tutto Sport. Che definisce i giocatori della Juventus mostruosi. Anzi i difensori della Juventus mostruosi. Un gol subito in 14 partite. La difesa è tornata a un muro quasi invalicabile. Benazia e Chiellini pronti per il Tottenham di Harry Kane. In attacco Higuain. È arrivato al top della forma. Giusto in tempo per la Champions. In alto Cairo. L'Europa non ti interessa. Torino zero colpi. Tirato d'orecchie evidentemente al patron Granata. Altre notizie. L'ultimo salta politano al Napoli. Babacarra al Sassuolo. E l'analisi di Tutto Sport. È folle un mese di trattative. Questo almeno si legge. Altre notizie. Il lutto a Diovicini. Il calcio piange. Un maestro e galantuomo. Coppa Italia. Il Milan stavolta non fa il miracolo. Con la Lazio è zero a zero in basso. Donne e motori si cambia. Via le ombrelline. Dai Gran Premi. Con questa notizia chiudiamo la prima parte di Mattino 6. Adesso le previsioni del tempo. Pubblicità. E poi torniamo ed entriamo dentro i quotidiani di casa nostra. Seconda parte di Mattino 6. Siamo pronti per sfogliare i quotidiani della nostra regione. Ripartiamo con il centro perché come detto l'Abruzzo va verso il voto del 4 marzo. Camera e Senato ha messe 16 liste. I grandi partiti superano l'esame dei giudici. Il Partito Democratico risolve il cavillo sul candidato Cialente. Ecco i nuovi nomi in lista. A centro pagina il verdetto sulla nuova legge elettorale Rosatellum incostituzionale. L'Aquila si riserva di decidere. Firenze boccia il ricorso. Ma le questioni che riguardano le liste le ritroviamo anche sull'apertura del messaggero. Ovviamente edizione abruzzese. Sette liste escluse ma c'è ancora possibilità di ricorso. Sono quattro la Camera e tre al Senato. Ma i partiti faranno appello. Intanto restano fuori tra gli altri la democrazia cristiana e i forconi. Risolte positivamente, leggiamo, e in tempi rapidi. Piccole inadempienze di Europa, Movimento 5 Stelle, Partito Comunista e dallo stesso Partito Democratico. Intanto si è riunito il Tribunale sulla costituzionalità del Rosatellum. I giudici si sono riservati la decisione. I Democrat che dicono la squadra è davvero forte, liberi e uguali. Noi siamo l'alternativa. Ovviamente siamo in casa del centro-sinistra. Il Partito Democratico per la prima volta abbiamo schierato tutti i capolisti abruzzesi. D'Alfonso è la punta di diamante. Libere e uguali, attacca sui due fronti. La destra fa sorridere, centro-sinistra invece che è tutto renziano. Cominciamo adesso andando nelle città. Pescara, pista ciclabile. Il Comune tira dritto. Il diplomatico Blasioli incontra la delegazione di Via Muzzi. Correggeremo se possibile, ma i lavori sono già cominciati. I negozianti temono il calo di affari con la perdita di posti auto, mentre i residenti lamentano nuove difficoltà per parcheggiare. L'assessore Civitaresi ha ribattuto alle contestazioni le scelte strategiche e ci fanno guadagnare voti. Dice, non perderli. Scendiamo in pagina perché Pescara Bici risponde con un flash mob, il faccia a faccia in strada tra favorevoli e contrari. C'è persino chi offre il caffè. Quando sbagliano le due ruote, novantenne investita da un ciclista per la cronaca. Torniamo sulle colonne del centro, andiamo avanti, vediamo la pagina abruzzese, Abruzzo capitale di tennis, ciclismo e sci. L'apertura è dedicata allo sport e soprattutto agli eventi. Un anno con 96 grandi eventi. Chiedi, il CONI presenta la Fed Cup, la nazionale azzurra femminile. Sfida le spagnole con la fuoriclasse, peraltro campionessa di Wimbledon, Garbin Mugurusa. Il Giro d'Italia poi arriva a Campo Imperatore e poi si scende a Rigoppiano in ricordo delle 29 vittime. A Roseto si terranno gli europei di pugilato. Ad Alfedena i campionati italiani di sci nordico in basso, alta velocità, a totolo appalto da 190 milioni. Il gruppo si aggiudica la gara per realizzare la galleria da 7,7 chilometri del terzo valico del Giovi. A Pescara la manifestazione, abbiamo visto, che riguarda la ciclabile. La protesta non ferma la nuova pista ciclabile. Via Muzzi il cantiere va avanti, faccia a faccia tra negozianti e appassionati. Senza parcheggi chiuderemo. Fatela altrove, serve dove c'è commercio. E in via Balilla, una novantenne, è investita dalla bicicletta. Sull'altra pagina, vedete una pagina doppia. Danelli, sì alle biciclette ma solo sui marciapiedi. Il presidente di Confcommercio ammonisce l'amministrazione comunale. I percorsi devono essere realizzati a senso unico. I posti auto non vanno toccati. Andiamo avanti. Sicurezza in centro. Rimaniamo sempre a Pescara. Vandali al Barrex Celsius. Ma nessuno dà l'allarme. Per la terza volta in un anno squarciato il tendone del locale di Corso Umberto. Il titolare dice che era mezzanotte e mezza e c'era gente. Perché non intervenire? Altre notizie. Che leggiamo nei box. A Montesilvano spaccia la droga. La polizia lo arresta. In carcere per atti persecutori nei confronti della madre. Un 37enne con problemi psichiatrici. E poi l'autopsia del giovane trovato morto lunedì sera nella Pineta tra Pescara e Montesilvano. Lo studente è morto per problemi cardiaci. In basso una pecora per ricostruire il greggio distrutto. Appello ai pastori delle associazioni Zampogna, Abruzzo e Argala. Ma aiutiamo Paolo e Alina. Cambiamo pagina. L'ospedale, l'appalto, il servizio vaccinazioni pronto a cambiare sede. Le mamme protestano per i locali fatiscenti e pericolosi per i bambini. La direzione della ASLA ha avviato la procedura per i lavori. Si andrà per gradi. Al De Cecco sbarca il cibo biologico. Un gruppo di studenti che vedete nella foto parteciperà al progetto Bioalimentiamo il futuro. La preside Di Pietro dice che è fondamentale educare al rispetto degli ecosistemi. Cambiamo pagina. Il pesce si cucina sulle banchine. Il turista viene preso per la gola. Domani la presentazione dei bandi per armatori e pescatori. con finanziamenti al 50% disponibili 150 mila euro per street food al porto e 200 mila per gite in mare con la consumazione. Evidentemente, consumazione di pesce, a base di pesce. A centro pagina Foschi scrive alla Meloni, nessun rispetto, il coordinatore provinciale, siamo alla politica, si è dimesso le candidature scelte senza neppure consultarmi. E poi, la festa dei cento anni con il sindaco Dincecco, Roberto Dincecco, ragazzo pescarese del secolo che ha spento ieri pomeriggio. Allora, tanti auguri. Cento candeline. Andiamo avanti. Il rilancio dei quartieri. Dopo scuola e carnevale, la Caritas anima le periferie. Dopo Rancitelli, il progetto Ninive coinvolgerà anche il quartiere Fontanelle. Oggi in Via Tavo sarà proiettato il documentario con i protagonisti del rione. I danni del sisma a chiesa di Sant'Antonio. Lavori al via dopo il terremoto del 2016. A Montesilvano, casa famiglia, chiusa dopo il blitz dei NAS, ispezioni sanitarie, il centro di accoglienza. Risultato privo di autorizzazioni, con carenze di cure, 5 ospiti non autosufficienti. Servizio 118, nuova sede in Via Inghilterra. Comune Asli Pescara individuano un fabbricato da riqualificare vicino alla Guardia Medica Turistica. Torniamo sul messaggero per riprendere il discorso con la città di Pescara. Letti carenti a geriatria e Palazzo Rosso Chiuso. Gli anziani dimenticati nel dossier firmato dalla Garante della Popolazione Over 65. Tutte le pecche dell'ospedale, comprese le irregolarità dei medici. E poi la notizia che ritroviamo anche qui. Ospiti abbandonati, sigilli all'ospizio, le accuse del NAS. In basso, per la politica, Meloni candida a testa. Appena arrivato, Foschi si dimette da coordinatore di Fratelli d'Italia. E poi il classico a lezione sulla Costituzione. L'arbitro derubato è stato un incubo, elenito di liberatore. Lo conoscete bene, volto notissimo. Guardalini è internazionale, ancora sconvolto per il furto sventato dei cimeli sportivi. Scendiamo, Centro Britti, 100 ospiti in un mese. Pienone nella struttura dei senza tetto. Andiamo avanti, rimanendo sempre, tornando sul centro, prima di cambiare provincia, come avete visto. Andiamo a Montesilvano, scuola lavoro, progetto biblioteca al liceo da Scania. Alvio per una settimana, uno stagio con il comune e 20 allievi impegnati nella catalogazione di 3.000 volumi. A Francavilla, scoperte 450 auto senza assicurazione. 13.000 verbali contestati in un anno dai vigili, mentre cresce il numero dei mezzi privi di polizza di spalla. Visioni di Carnevale, tre classici del cinema. All'auditorium, ovviamente, siamo sempre a Francavilla, al mare. A San Giovanni Tiatino, il comune è condannato ad assumere una vigilessa. Cambiamo pagina, siamo a Loreto, raffica di furti, presa di mira, proprio il centro vestino e il sindaco si appella alla collaborazione dei cittadini. segnalate, dice qualsiasi movimento o presenza che possano essere sospetti. In alto, inchiesta DDA, siamo appena Roberto Corbo, torna libero. Pagina di economia, Brioni e i sarti vestini, sul New York Times. Appenne sempre, ospedale San Massimo, Tar Pescara, boccia il ricorso dei comuni. E poi, a Manopello, non confondiamo Shoah e Foibe, richiamo di Ampi, Pescara e PRC sulle celebrazioni storiche. Cambiamo adesso provincia, siamo a Chieti, tragedia a Villamagna, muore a 28 anni, schiacciato dal trattore. Giovane agricoltore di Ari, vola nella scarpata e finisce sotto il mezzo, sulla provinciale Val di Foro. Familiari e amici in lacrime, il lutto cittadino ad Ari, il sindaco, siamo distrutti per quello ovviamente che è accaduto. E queste sono davvero le foto di un incidente che ha del tragico, la vittima Massimo di Prinzio. Sempre cronache in basso, investita dall'auto sulle strisce, grave una 56enne, Lanciano travolta mentre attraversava la strada e in rianimazione la conducente sono stata abbagliata dal sole. Cambiamo pagina, rivoluzione degli incarichi, cambio all'aterra, arriva l'ex segretario PD. D'Alfonso nomina commissario di Giuseppe, già sindaco di Altino, prende il posto di Gabini che in tre anni ha risanato l'ente. E Febbo accusa una furbata proprio in periodo di elezioni. In basso, un maxischermo per Uto Ugi, domani il concerto al Marrucino, in comune ci sarà una sala di videoascolto e vedete quanto pubblico in coda per ritirare i biglietti. E c'è questo signore che giustamente festeggia perché il biglietto lo ha in mano e dunque potrà assistere al concerto di Uto Ugi. Polemica a Brecciarola, Iezzi, l'autovelox va rimosso, servono centraline per l'aria. Cambiamo pagina, siamo ad Ortone, parliamo sempre di sicurezza stradale, torna l'autovelox in strada. Previsti 12 giorni di controllo, il comune prende in affitto l'apparecchiatura da una società di Brescia. Previste verifiche utili anche ad accertare l'entità dei flussi di traffico. Dall'altra parte, sempre Ortone e Bagarre sul caso veri Movimento 5 Stelle, Giorgio Marcheggiano dice che non c'è coerenza. A Teramo, Camera di Commercio, il caso intascava i soldi delle visure, impiegato condannato a tre anni, accusato di peculato, la procura gli contestava cinque anni di appropriazioni per 86 mila euro, ma per il giudice sono provate solo le somme incassate in sette mesi per un danno di circa 1500 euro. A centropagina morì carbonizzato sulla A24, tutti assolti, tra i tre finiti a processo per l'incidente 2012, anche il direttore generale della strada dei parchi. Questo è il camion andato in fiamme in cui morì Giovanni Di Natale. Scendiamo in basso per la politica, la polemica, Brucchi-Gianni Chiodi ha fatto una figuraccia, veleno suttati per la candidatura fuori da Forza Italia, non può scaricare le colpe sul partito. Questa è una foto ovviamente di repertorio, quando evidentemente i rapporti erano ben diversi tra i due. E scoppia la grana delle aree bianche, ma non siamo più a terra, ma siamo a Roseto. Il comune rischia un conto salato, sono i terreni senza vincolo urbanistico che i proprietari non possono utilizzare in attesa del PRG. Il sindaco di Girolamo, se ci fanno causa, potremmo essere costretti a sborsare molti milioni. Scendiamo. Spiagge libere, basta con i divieti. I sindaci di Roseto e Pineto chiedono alla Capitaneria di consentire la valneazione. Nuovo comandante Tarantino della stazione dei Carabinieri dell'Erba va a Tortoreto. Silvi, le frane proseguono, massi e detriti sulle strade, iniziati i lavori di ripresione, il bel vedere, ma restano gravi i disagi nella viabilità. Il collegamento con il borgo antico è quasi impraticabile, manca la segnaletica. Altre notizie, altri bloccati i lavori sulla scuola, ditta appaltatrice ha rinunciato all'incarico, entro dieci giorni ci sarà il riaffidamento. Silvi, allarme per una palma attaccata dal punteruolo rosso. In basso, metanodotto, cambia percorso, passerà a volta al rosto, nuovo tracciato tra Roseto, Pineto e Atri. Siamo in provincia dell'Aquila, a Sulmona, palazzo di giustizia, lotta contro la chiusura di Benedetto e Bellelli. Così salviamo il tribunale. Il presidente e il procuratore inviano la proposta progetto alla regione, alla struttura più piccola, telelavoro e ruolo di sperimentazione e ricerca. Per il questione gasdotto, i comitati respingono le rassicurazioni della SNAM. Margadonna, l'impianto, sorgerebbe su una faglia. Problemi anche per l'ambiente, mentre sono diversi i casi di esplosioni o malfunzionamento che hanno creato dei danni. All'Aquila, la tragedia di Campo Felice, che prende praticamente quasi tutta la pagina, si schianta con gli sci e muore. La vittima è Angelo Gaudieri, 58 anni, uscito dalla pista, è finito contro un albero. Lavorava come tecnico all'università, i colleghi una perdita incolmabile e queste sono le foto della pista di Campo Felice. In basso, invece, cambiamo argomento, morte di Marco, il giorno del dolore, oggi funerali e lutto cittadino a Capistrello. Prosegue l'inchiesta della procura, l'area è sequestrata. Ma torniamo alla tragedia di Campo Felice, vedete qui c'è la pista dove purtroppo ha perso la vita il 58enne. Dall'altra parte, l'altro incidente, è stato davvero un mercoledì nero per chi sciava, rivisondoli grave e disabile, finito contro un palo. 38enne di Casalbordino partecipava ai corsi con un'associazione abruzzese, il presidente Trozzi è esperto, lo aspettiamo al più presto tra di noi. E in alto la ricorrenza, un anno fa precipitò l'elicottero, una triste ricorrenza nella sciagura di Monte Cefalone, hanno perso la vita sei persone. A Celano, cronaca ancora, picchia l'amica della figlia, spedizione punitiva dopo la lite tra le due ragazzine. Siamo per entrare, più tardi entreremo anche ovviamente nella pagina dello sport, ma adesso torniamo, perché poi lo sport lo faremo tutto insieme, girando tra i vari quotidiani. Adesso continuiamo con la lettura delle pagine di cronaca e politica, torniamo sul messaggero all'Aquila, i commercianti del centro, incentivi in grande ritardo, bloccata la graduatoria che permetterebbe di ottenere sostegno economico alle imprese. Irina Parepucci, a nome della categoria no alla campagna elettorale, a nostre spese sanità, un sostegno psicologico per i malati di tumore. E qui una notizia abbastanza particolare, viabilità in tilt, perché un camion ha praticamente demolito il tetto del casello dell'Aquila Est. Vedete, insomma, non era proprio delle dimensioni esatte questo camion per poter passare lì dove è passato e i danni sono evidenti, ad occhio nudo. Sempre all'Aquila, incidente sugli sci muore un aquilano, a tragedia sulla nera di Campo Felice. L'uomo si è schiantato contro un albero, era il responsabile dei laboratori, lutto e turbamento ovviamente all'università dove lavorava. Taglio del nastro all'accordo per il riutilizzo dei materiali. Nella pagina che riguarda Vezzano Sulmona, sequestrati i macchinari Codimar, oggi funerali dell'imprenditore Roberto Di Marco, rimasto schiacciato sotto una tramoggia ghiacciata. Il sindaco di Capistrello ha proclamato il lutto cittadino, il cordoglio delle associazioni e del mondo del lavoro. Assulmona, discarica a cielo aperto sulle sponde del fiume. Altre notizie, bar del centro naziani chiuso dopo i ricorsi, siamo a Assulmona, a Rivisondo, l'isciatore disabile in prognosi riservata. A Chieti, anche qui ritroviamo questioni di cronaca, il trattore si ribalta morto sul colpo un giovane agricoltore, accaduto nel pomeriggio di ieri a Miglianico. La vittima è Massimo Di Prinzio, appassionato di macchine agricole. A Chieti, niente auto in centro per il concerto di U. I divieti di sosta domani dalle 17, nelle traverse del corso di primio, sarà una grande giornata. Per Chieti, dice il primo cittadino. A Lanciano, donna travolta sulle strisce e grave, investita all'uscita da una farmacia, è stata stabilizzata, trasferita in ericottero alla neurochirurgia di Pescara. Sotto shock l'investitrice, forse abbagliata dal sole, sotto accusa la segnaletica sbiadita all'incrocio di via Ciriaci. E poi, sempre a Lanciano, Ecolan, società in house, ricorsi che vengono respinti a Teramo. La fondazione rilancia Capitale Cultura 2020, il dossier pronto a essere ripresentato sotto l'ombrello del programma europeo. Il professor Nuzzo, sfida esistenziale per il futuro di tutto il territorio, in alto, bruciò vivo nel tir che guidava, tutti assolti e poi scatta l'analisi aria dopo l'incendio. All'ex Cirsu in basso, Brucchi stoccata a Chiodi, io resto in Forza Italia, dice l'ex primo cittadino. A Giulianova, a Tari, i balneatori cantano vittoria. Una sentenza del Consiglio di Stato ha esaminato, analoga situazione dei colleghi campani, dando loro ragione. In pratica, potevano effettuare una raccolta autonoma. Ora, che farà il comune che pensava di incassare mezzo milione? Sempre a Giulianova, assalto al bar dello sport e via con la Mangiasoldi. Ad Ancarano, Madonna con bambino, ritrovato l'antico dipinto per la cronaca. Colonnella maltrattava la ex di vieto di avvicinamento. Siamo anche qui allo sport e allora prima di arrivarci vediamo, rimaniamo in provincia di Teramo, andando sulle colonne del quotidiano alla città. Servizi sanitari abusivi a domicilio. Due denunce, un trentenne e un settantenne nei guai con il NAS dei Carabinieri. Per esercizio abusivo della professione, prezzi del mercato immobiliare media in calo. Teramo resiste. Camionista carbonizzato sulla A24. Tutti assolti, nessun responsabile per la morte del camionista Giovanni Di Natale. le tesi dell'accusa non hanno retto in tribunale. E poi questa notizia particolare, anche se vogliamo molto bella, dal Texas una raccolta fondi in favore del Braga, contributo dell'Associazione Italiana in USA e della Camera di Commercio Locale, ha acquistato otto strumenti a fiato. Sempre a Teramo, bocciato il ricorso bis contro la Team. Anche il Consiglio di Stato respinge le istanze della Diodoro sulla gara a doppio oggetto. Ecco le liste per la politica di spalla. Anche il PC sarà in corsa alle prossime elezioni. Per la provincia, incidenti Teramo, il comune più pericoloso. I dati ACI e ISTAT, il bilancio dei sinistri stradali del 2016, di 21 morti, 1.126 feriti. Pensate, e qui c'è lo specchietto con tutti i comuni consultabili, ovviamente con i dati, appunto, comune per comune, e poi il totale della provincia. Fiamme tra i rifiuti degli impianti CIRSU. Il problema di sempre. Nuova allarme ambientale per la densa nube di fumo generata da un incendio del materiale organico. Una buona notizia. In arrivo 300 mila euro per sistemare la frana di Canzano. Cronaca. Minacce e insulti al figlioletto. Incubo per una quarantenne di colonnella tormentata dall'ex compagno. E poi andiamo avanti. Ci spostiamo a Giulianova. Rifiuti. Coba, un esempio per i comuni. Balneatori bacchettano gli amministratori che pretendevano comunque la Tari. Conto alla rovescia. Sempre a Giulianova per sfiduciare Mastro Mauro. Costantini ricorda che il PD ha tempo fino al 24 febbraio per evitare 13 mesi di commissariamento proprio a Giulianova. A Roseto il comune rischia un risarcimento milionario. Tempi lunghi per la sentenza prevista per aprile 2019. Potrebbero fargli evitare però ancora di più i costi per il parcheggio conteso. Poi questa notizia. Docce fredde al Palamaggetti. Siamo sempre a Roseto. Appello dei giocatori al sindaco rosetano. Adesso andiamo alla pagina di Sport perché è terminato il calcio mercato per il Pescara. Sfuma il portiere Rosati che ingorgo in attacco. Poche novità nell'ultimo giorno di affari. Zeman resta con 29 calciatori in rosa. E questa è il riassunto. Questa è la rosa attuale. La situazione a fine mercato con gli acquisti e le cessioni. Ma la rosa rimane non di 25 come avrebbe voluto Zeman. In basso Fiamozzi pronto al debutto contro il Frosinone. Il terzino insidia Crescenzi. Sabato probabile conferma di Campagnano in difesa. Brugman è ok. Peraltro per Riccardo Fiamozzi si tratta di un ritorno in maglia bianco-azzurra. Il Teramo riparte. Ecco Rossi e Cretella. ha ingaggiato il terzino ex Pescara e l'esterno del Gavorrano che arriva da Palladini in cambio dell'attaccante Barbuti. Niente da fare per lo scambio. Tulli a quadro con la Triestina. Sabato al Bonolis arriva il Pordenone. Anche in questo caso gli arrivi e le partenze. In casa Teramo sono più gli arrivi che le partenze. Sette gli arrivi e sei le partenze. A Pescara ovviamente è il contrario. Le altre stanco alla Samb. Fermana capisce. Ok. In basso eccellenza Coppa Italia. Chieti Giulianova. Rebus per la sede della finale. La FIGC ha deciso su Città Sant'Angelo. Ma i due club si sono accordati per disputarla al Fadini in notturna. Oggi il verdetto. Serie D. Lavezzano allarga la base societaria. Altre notizie. Roseto. La torre si tratta. L'ala di Udine è a un passo. I rosetani vogliono chiudere al più presto l'ingaggio del ventenne Friulano. Lex Smith nel merino dell'Orzi Nuovi. Al Palamaggetti. Le finali nazionali under 15. E poi. Calcio a cinque donne. Serie A. Il derby va al Pescara. Montesilvano. K.O. Sì, ma con onore. Rugby League. L'Aquidò lo sfiderà. La Coppa Italia. Andiamo sulle colonne del messaggero per vedere anche qui le questioni legate al mercato. Partendo ovviamente dal Pescara. Sei arrivi e dieci cessioni. Il bilancio è di meno quattro. La Rosa è sfoltita. Il bilancio del mercato è in linea con le richieste di sfoltimento della Rosa. Canutè passa in prestito all'Ascoli. Salta al fotofinish. La partenza di Stendardo. Ma ovviamente è un Pescara che si proietta anche alla trasferta di sabato pomeriggio. Proietti. Non ci sarà forfè ma rilancia. Obiettivo importante. In basso. Avezzano. C'è D'Alessandro che dovrebbe allargare la base societaria. Luciano D'Alessandro insieme a Gianni Paris. L'Aquila. Ad Agnone. Probabile partenza la domenica. Mattina per la formazione Rosso-Blu che va in trasferta proprio nell'Alto Molise. Cambiamo pagina. Teramo. Rossi. Bifulco. E Cretella. Il terzino era fuori rosa al Pescara. Tulli resta. Arrivano il portiere 35enne. Il mediano. Del Gavorrano. A Roseto. Per il basket. La torre possibile. Arrivo. Anche qui la questione sulla finale tra Real, Giulianova e Chieti. Finale al Fadini di Giulianova. leggiamo anche sulle colonne della città le questioni che riguardano il Teramo. All'ultima curva c'è Andrea Rossi. Mercato chiuso. Definito lo scambio Biful con Lewandowski. Mentre l'esterno arriva a titolo definitivo. Ovviamente altre questioni. Tulli non parte più. Non è stato trovato l'accordo con la Tiestina per uno scambio col mediano a quadro. Dall'altra parte invece Barbuti va a Gavorrano. Quando sembrava sul punto di restare va in Toscana. In cambio di Riccardo Cretella. Giolli 23enne. In basso il riassunto. Il padua capolista prende Eric Lanini che giocava a Vicenza. Stanco va alla San Benedettese. Maggiori trattative riassunte nel riguardo in basso. Con questa notizia noi chiudiamo la rassegna stampa di questa mattina. La rassegna stampa che torna ovviamente puntuale domani alle ore 8. Vi ricordo alle ore 14 invece il primo appuntamento con il nostro Tg. Con tutte le notizie più importanti dalla regione. E' tutto. Buona giornata. Grazie a tutti.